laboratorio di pop up primo laboratorio lo chiameremo base 1 materiale occorrente una riga una matita e una forbice e logicamente un cartoncino non dovrà essere troppo spesso ma neanche troppo leggero prendete la vostra riga e tracciato un segmento di 23 cm a secondo di quello che vorrete andare a creare decidete anche se tracciarlo al centro in alto o in basso sempre a secondo di quello che vorrete realizzare prendete la vostra forbice andate a tagliare lungo la linea che avete tracciato a questo punto piegate si formerà vedrete un triangolo ok schiacciate bene col pollice sia da una parte che dall'altra aprite bene il foglio e tirate fuori col dito il vostro pop up con questo pop up potrete realizzare veramente tantissime cose vi diamo qualche idea qualche spunto e poi largo la fantasia a 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 quante cose che si possono creare con un semplice taglio tutto quello che abbiamo creato possiamo metterlo insieme e formare un libro un libro di pop up e adesso tocca a voi a a